abbracci sparsi a tutti voi cari amici in zona e grazie per essere qui ancora una volta pronti ad ascoltare un caso di true crime avvenuto in quel luogo oscuro che siamo soliti chiamare pianeta terra se non siete ancora iscritti al canale e per caso vi siete imbattuti in questo video vi chiedo se vi va di provvedere immediatamente cliccando il tasto di iscrizione in basso tranquilli è tutto a spese della casa per il video di oggi rimaniamo in italia e andiamo a rispolverare un brutto caso di cronaca avvenuto 12 anni fa che sarebbe potuto costare la vita a molte persone alla fine non è stata una strage purtroppo però un'anima innocente ha lasciato la propria vita sull'asfalto assieme ai suoi sogni le sue speranze tutto ciò che un insano inopinato atto ha contribuito a spegnere per sempre siamo a brindisi e dalla mattina del 19 maggio 2012 sono le 7 45 gli studenti della scuola superiore morvillo falcone si apprestano a fare ingresso nell'istituto come ogni giorno la scuola sorge in via giuseppe maria galanti una traversa in via le aldo moro a poche centinaia di metri dal tribunale di brindisi ma c'è qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre mattine nello specifico tre oggetti della stessa natura tre bombole di gas riempite di nitrato di sodio carbone e zolfo piazzate davanti all'istituto tenute insieme da un innesco comune nascoste agli occhi dei più in un cassonetto dietro un cartellone pubblicitario sono pronte a deflagrare portare morte paura e distruzione non c'è un comando a distanza ma un timer settato su un orario ben preciso le 7 e 50 l'esplosione è fortissima da danneggio le finestre dei palazzi limitrofi e le saracinesche dei negozi ma non sono quelli purtroppo i danni maggiori che la deflagrazione causerà a quell'ora infatti i primi studenti si trovano nei pressi dell'istituto pronti per entrare a scuola e non hanno alcun modo di sfuggire alla violenza dell'esplosione grida libri bruciati a terra scarpe e vetri rotti succede tutto in pochi istanti ma le conseguenze saranno durature indelebili per la città gli studenti coinvolti e le loro famiglie alla fine sono 11 ragazzi che in qualche modo subiscono le conseguenze dell'esplosione 5 restano feriti in modo lieve 5 hanno danni molto più seri una di loro melissa bassi di appena 16 anni subisce le conseguenze più gravi perde un braccio nell'esplosione e la vita poco più tardi al pronto soccorso dell'ospedale perrino di brindisi austioni sul 90 per cento del corpo per lei non c'è nulla da fare troppo gravi le sue condizioni per poter pensare di salvarla melissa muore alle 9 e 30 i testimoni raccontano scene di orrore e disperazione stavo aprendo la finestra e la deflagrazione mi è arrivata addosso ho visto i ragazzi a terra tutti neri i libri erano in fiamme una scena terrificante sono ragazzini chi è che ha potuto fare una cosa simile il presidente della scuola angelo rampino non si dà pace è stato fatto per uccidere le ragazze entravano proprio a quell'ora fosse accaduto alle 7 e 30 non ci sarebbe stata nessuna conseguenza un'altra ragazza amica di melissa subisce gravi ferite e la sua vita rimane appesa a un filo si trova molto vicino a melissa nel momento in cui le bombole esplodono l'impatto sul suo corpo è violentissimo ai polmoni fortemente lesionati ad un certo punto alcuni organi di informazione battono anche la notizia poi smentita che sia la seconda vittima dell'attentato si tratta di veronica capo 10 la studentessa anche lei di 16 anni viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel quale i medici cercano di ricostruirle la parete addominale e la gabbia toracica trasferita all'ospedale di lecce le sue condizioni restano gravi ma è viva la sua situazione clinica poco a poco si stabilizzerà e i polmoni riprenderanno a funzionare correttamente se veronica ha subito traumi toracico addominali e ustioni su gran parte del corpo una sorte non dissimile è capitata a chi era accanto a lei altre studentesse sono rimaste ferite e delle tre in prognosi riservata due entrano in sala operatoria per gravi ustioni che arrivano fino al 40 per cento del corpo una di queste è la sorella di veronica capo 10 vanessa di 19 anni con profonde ferite alle gambe è stata lei negli attimi successivi all'esplosione ad avvisare subito la famiglia che qualcosa di grave era accaduto tacendo però le disperate condizioni della sorella più piccola che i genitori hanno poi scoperto una volta precipitatisi in ospedale veronica e vanessa sono figlie di un imprenditore che alcuni anni prima aveva collaborato con l'associazione libera lavorando ad uno scavo su un terreno sequestrato a un boss della sacra corona unita questo particolare contribuisce ad orientare una pista delle indagini che non è l'unico ovviamente così come non è ancora finito l'elenco delle ragazze coinvolte dall'esplosione azzurra camarda 17 anni e sabrina ribezzi 18 sono ricoverate al centro grandi ustionati del perrino hanno ustioni di terzo grado le gambe i medici non sciolgono la prognosi perché sono preoccupati dalle infezioni che potrebbero aggravare il quadro clinico la lista delle studentesse ferite si completa con anna lopertuso 20 anni alessandra gigliola 20 anni e selene greco 16 quest'ultima è la migliore amica di melissa bassi le sue condizioni non appaiono estremamente gravi ma non le viene detto subito che melissa è morta a quello ci avrebbero pensato gli psicologi il cui aiuto sarebbe stato essenziale perché oltre ai corpi anche le menti di quelle ragazze sarebbero uscite molto provate dall'ospedale l'area oggetto del ville attentato viene transennata per 200 metri diverse autorità si recano sul luogo tutti sgomenti l'esplosione del 19 maggio 2012 dinanzi all'istituto francesca morvillo falcone di brindisi non lascerà solo i segni visibili sul corpo delle ragazze ferite ma ne lascerà uno nell'animo ancor più profondo il nome della scuola richiama fatti altrettanto nefasti che hanno scritto tristi pagine della storia del nostro paese tra l'altro qualche giorno dopo si sarebbe commemorato proprio il ventennale della strage di capaci e fu difficile non avanzare l'ipotesi che vi fosse un collegamento tra le due cose forse fu proprio questo a spingere il neo eletto sindaco mimmo consales a parlare di un attacco della criminalità organizzata appena un paio d'ore dopo l'attentato oltre all'imminente ricorrenza e al luogo dell'esplosione altre circostanze avrebbero potuto farlo pensare il giorno successivo si sarebbe tenuta a brindisi una manifestazione antimafia promossa dall'associazione libera una decina di giorni prima inoltre un'operazione disposta dalla direzione distrettuale antimafia di lecce aveva portato all'arresto di 16 persone ritenute esponenti a vario titolo della sacra corona unita e attive sul territorio di mesagne mentre nella notte tra il primo e il 2 di maggio un'esplosione aveva completamente distrutto l'auto del presidente dell'associazione antiracket di mesagne insomma una pista decisamente battibile la più ovvia ma non la sola sui responsabili inizialmente fu buio fitto e alcune circostanze contribuirono a non dare nulla per scontato la mafia solitamente non usa bombole a gas ma tritolo e forse non avrebbero neppure avuto l'interesse ad uccidere delle studentesse ed il fatto che l'ordigno fosse esploso a quell'ora significava che vi fosse un chiaro interesse in questo senso una serie di perquisizioni scattarono a brindisi in provincia e secondo quanto si apprese non riguardavano soltanto persone legate alla criminalità ma anche altri soggetti inoltre vennero effettuate una serie di verifiche su rivenditori di bombole di gas per capire se qualcuno aveva venduto nei giorni precedenti le bombole utilizzate per confezionare l'ordigno il procuratore della repubblica di lecce cataldo motta si mostrò cauto disse che poteva non essere stata la mafia da organizzare l'attentato in un momento in cui tali organizzazioni locali erano alla ricerca di un consenso sociale sarebbe stato un atto in controtendenza quello di attentare alla vita di ragazze innocenti quindi le indubbie coincidenze che puntavano il lito verso la criminalità organizzata avrebbero potuto rimanere tali si parlò anche di una possibile azione di stampo internazionale o di atti eversivi ma in genere chi compie questi atti poi li rivendica e fino a quel momento non vi era stata alcuna rivendicazione oltre alle perquisizioni vennero attentamente vagliate le immagini delle telecamere a circuito chiuso poste nella zona in modo da poter identificare elementi utili alla risoluzione del caso e fu proprio grazie a questi video che si sarebbe riusciti a dare un voto all'attentatore già quella stessa notte vennero ascoltate alcune persone una di queste era un ex militare con conoscenze di elettronica e i cui parenti avevano una rivendita di bombole di gpl ma mentre le indagini andavano avanti e gradualmente il cerchio si stringeva attorno al responsabile di quell'atto scelerato il paese di mesagna e l'intera città di brindisi si strinsero nel lutto che aveva colpito i familiari di melissa e stravolto la vita delle ragazze coinvolte e dei loro familiari melissa era figlia unica di un operaio piastrellista e di una casalinga una figlia amata come non mai la principessa di casa con lunghi e sottili capelli rossi un sorriso dolce e la spensieratezza dei suoi 16 anni una ragazza normale piena di vita come raccontarono le professoresse sotto shock la sua morte annientò chiunque la conosceva e fece tremare gli studenti che arrivarono davanti all'ospedale di brindisi piangendo e abbracciandosi senza speranza ragazzi e ragazze che si allontanarono con vergogna e cortesia dai giornalisti un dolore inconcepibile ma da vivere in gruppo i genitori di melissa si chiusero nella loro casa dipinta di giallo a mesagne un paese ammutolito dal dolore parenti e amici cercarono di portare conforto ma nessuno riuscì a trovare le parole giuste semplicemente perché non esistevano per esprimere solidarietà le vittime per protestare contro l'attentato tutta l'italia si unì a brindisi con sit-in e manifestazioni in moltissime città gli studenti e non solo loro scesero in piazza davanti ai comuni con fazzoletti bianchi e striscioni la sera dell'attentato centinaia di persone si riunirono in piazza della vittoria a brindisi rabbia che avrebbe lasciato spazio al dolore e alla richiesta di verità e giustizia un fatto anomalo come detto in precedenza una tentata strage che aveva inevitabilmente evocato una matrice di criminalità organizzata ma che dovette col passare dei giorni lasciare spazio a un'altra verità nel giro di poco tempo emerse con chiarezza che la sacra corona unita non era coinvolta nell'attentato si trattava invece dell'opera di un solitario che aveva agito per motivazioni personali scollegato da qualsiasi organizzazione le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza di un'attività di fronte alla scuola acquisite dalla procura della repubblica permisero di risalire al colpevole giovanni vantaggiato 68enne originario di copertino l'uomo venne identificato e arrestato il 6 giugno 18 giorni dopo l'attentato vantaggiato commerciante di carburanti agricoli nel primo interrogatorio disse al procuratore cataldo motta di non avere nulla a che fare con quanto era successo e aggiunse di essere rimasto a casa con la moglie giuseppina marchello in seguito vantaggiato cambiò versione e ammise di essere il responsabile dell'attentato non fu in grado di spiegare compiutamente le sue motivazioni non ho una vera ragione disse ma raccontò gli inquirenti di come avesse imparato a costruire la bomba artigianale e di come effettivamente l'aveva assemblata raccontò di aver comprato in diversi momenti la polvere pirica i cavi elettrici la batteria e tutto il resto successivamente si appurò che il motivo del gesto era da ricercarsi in una truffa da 342 mila euro di cui fu vittima l'azienda di sua moglie per una partita di carburante non pagato per tale motivo vantaggiato peraltro già sotto accusa per tentato omicidio nei confronti del presunto truffatore aveva maturato un profondo rancore verso lo stato per non aver ricevuto giustizia in merito a quella truffa aggravato dall'idea infondata del coinvolgimento di un maresciallo dei carabinieri il quale una volta scagionato provvide a denunciarlo per calunnia il processo avvantaggiato iniziò nel gennaio del 2013 e si unì a quello precedentemente avviato sempre a suo carico per il tentato omicidio di un ex socio cosimo parato unico imputato per i fatti del 19 maggio contro di lui ci furono quattro capi di accusa strage con finalità terroristica lesioni personali con l'aggravante di aver colpito minorenni fabbricazione detenzione trasporto ed esplosione in luogo pubblico di armi da guerra e congegni micidiali e infine il tentato omicidio di cosimo parato con l'aggravante della premeditazione nonostante l'incertezza della sua deposizione soprattutto riguardo il movente la meticolosità con cui vantaggiato costruì la bomba fu considerata un segnale della sua capacità di intendere e di volere soprattutto di premeditazione elemento che rafforzò l'accusa di strage terroristica la moglie fu chiamata a testimoniare ma si avvalse della facoltà di non rispondere i giudici confermarono che il movente di vantaggiato era da ricondurre alla rabbia accumulata nei confronti di una giustizia a suo dire inefficiente che non l'avrebbe tutelato abbastanza nel caso del processo contro cosimo parato proprio per questo sostene l'accusa vantaggiato aveva scelto come obiettivo dell'attentato la scuola morvillo falcone per il valore storico politico del nome dell'istituto e per la sua vicinanza al tribunale il 18 giugno 2013 la corte d'assise di brindisi condannò giovanni vantaggiato all'ergastolo e pello dell'anno successivo confermò la sentenza vantaggiato è stato condannato all'ergastolo con 18 mesi di isolamento di urno e al risarcimento delle parti civili i genitori di ministra bassi e quelli delle altre ragazze ferite nell'attentato oltre al ministero della pubblica istruzione al comune e alla provincia di brindisi successivamente la sentenza d'appello non è più stata impugnata e il 6 novembre 2014 è diventata definitiva e irrevocabile qui finisce la storia dell'attentato alla scuola morvillo falcone di brindisi una tragedia assurda priva di senso che ha rubato una vita ed altre ne assegnate nel corso degli anni a melissa bassi sono state dedicate diverse opere d'arte alcuni parchi e una scuola portano il suo nome il suo ricordo è ancora vivo nella città e nelle persone che l'hanno vista crescere per troppo poco tempo però ed anche per oggi è tutto cari amici in zona vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare questa tristissima vicenda fino alla fine e vi do appuntamento ai prossimi video sul canale nel frattempo vivete appieno le giornate di attesa e prendetevi cura delle persone le quali volete bene perché potrebbero non essere lì per sempre alla prossima grazie a tutti